In Valle d'Aosta, come in molte altre regioni delle Alpi, una delle leggende più diffuse riguarda la costruzione di punti difficilissimi o impossibili, affidata ai demoni. Curioso che più spesso il costruttore sia il diavolo e meno spesso santi, che invece intervengono per salvare gli imprudenti committenti evitando loro di dover pagare pesanti contributi basati su anime e vite umane. A Pont Saint-Martin, come suggerisce il nome, il torrente Lys, dal flusso torrenziale e dal rischio pericoloso, era attraversato da una pericolosa passerella in legno, dalla quale era facile scivolare e precipitare nelle acque gelide e piene di gorghi, con già molte vittime. Tutti gli abitanti del paese misero mano alla borsa, raccolsero una certa somma, alla quale parteciparono anche i signori del paese e il parroco, ma i lavori furono più difficoltosi e dispendiosi del previsto, in modo tale che la costruzione si interruppe con grande disappunto di tutti gli abitanti, che si erano illusi di poter finalmente attraversare il Lys con la massima comodità e tranquillità. Durante un'assemblea del paese, si fece avanti uno straniero che offrì insperatamente una borsa piena di pezzi d'oro, scatenando un tripudio generale. Egli si rivelò essere il diavolo in persona, che avrebbe finanziato la costruzione del ponte, richiedendo in cambio l'anima del primo che avrebbe transitato sul ponte. L'assemblea accettò l'offerta, con la promessa di non rivelare mai a nessuno la terribile richiesta, ma la cosa fu ben presto resa nota a tutti gli abitanti del circondario e ai viandanti. Tutti, terrorizzati, tenevano a lungo dal ponte, evitando l'attraversamento per non dover pagare al diavolo un prezzo troppo terribile. Intanto, il demonio, che era convinto di facilmente ottenere l'anima da condurre all'inferno, si infuriò e maledì il paese con una serie di disastri, che precipitarono la zona in una terribile carestia, le galline non producevano più uova, le mucche non producevano più latte e i frutti marcivano sulle piante. Era necessario trovare l'anima da sacrificare al diavolo, altrimenti la carestia avrebbe distrutto l'intero villaggio. Il parroco si recò a trovare un'eremita sagace e santo che viveva nei boschi intorno al santuario di Nostra Signora della Guardia, implorandone l'aiuto. Martino tranquillizzò il povero curato impaurito e gli ordinò di venire all'alba nei pressi del ponte con tutta la popolazione e di suonare la campana dell'Angelus. Così fecero e all'alba seguente Martino arrivò anche egli, guidando un cane affamato, si fece il segno della croce e attese il suono della campana. E quando ciò avvenne, tirò un pezzo di pane raffermo dall'altra parte del ponte. La povera bestia, affamata, attraversò di gran corsa il ponte e fu afferrato dal diavolo, che, vedendo l'inganno, si arrabbiò tantissimo, sputò fiamme, urlò e diede un poderoso calcio alla spalletta del ponte, provocando un crepacche che è ancora visibile oggi. Martino fu portato in trionfo tra il tripudio generale della gente, che festeggiò per tre giorni e tre notti, ma lui, come sempre, preferì ritornare silenziosamente al suo eremo rifugio. Gli abitanti, come segno di gratitudine e di ricordo del fatto, decisero di chiamare il paese con il nome del suo benefattore e dell'oggetto della sfida, Ponte St. Martin.